Stefano Vinti, Assemblea Nazionale Sinistra Italiana. Perché no? Perché no? Perché dobbiamo riconiugare la dimensione della democrazia con la questione sociale. C'è un'enorme questione sociale oggi in atto che si sviluppa, che è grave, che determina disagio sociale, disoccupazione, precarietà, anche grazie alle politiche dell'Europa e dei governi che si sono susseguiti in questi anni e ovviamente per le scelte del governo Rezzi. La questione sociale deve avere la possibilità di esplicitarsi dentro le istituzioni allarcando la democrazia e non chiudendola, e non racchiudendola. Pertanto la Costituzione come grande strumento di salvaguarda dei diritti sociali, della capacità di difesa dei soggetti sociali più deboli, dei lavoratori, precari, giovani, pensionati, è la condizione essenziale per costruire un'altra idea di politica e un altro modello di società. Votare no significa salvaguardare questa idea di democrazia e ricongiungerla alla questione sociale. Perciò un no che è anche un no sociale.